E' tornato al successo il Cab Solofra di coach Luca Iannacone, dopo lo stop della scorsa settimana a Napoli contro la Partenope. I gialloblu sono stati i protagonisti di un'ottima partita, battendo 78-65 i casertani del basket coiné. La formazione irpina è tornata nuovamente al terzo posto della classifica, perché la diretta rivale, il Santa Maria Avvico, è uscito sconfitto dal match di parete contro la locale formazione. Il successo contro il basket coiné porta un nome e cognome, ed è quello di Giovanni Esposito, top scorer del match con 23 punti ed autore di una grande performance. Decisiva la difesa ed il gioco in transizione degli uomini di coach Iannacone, che hanno dominato la partita dall'inizio alla fine. Il Cab ha ritrovato anche Iannicelli e Dargenio, assenti la scorsa settimana. Per il rush finale, il Solofra si è garantito le prestazioni del classe 97 Francesco Pergolese. Il Solofrano sta disputando anche il campionato Under 20 di eccellenza con Agropoli. È la sua prima esperienza in un campionato senior. In vetta alla classifica del campionato di Serie D c'è sempre il Capomiseno, con 36 punti, seguito dal Casapullo a quota 30 ed il Solofra a quota 28 punti. In promozione c'è da registrare la sconfitta dopo sette successi consecutivi del centro storico Avellino e Biancoverdi hanno perso in casa contro l'Abbatese. In un finale concitato i partenopei sono riusciti a spuntarla, ma tanto rammarico per la squadra di Coach Ricciuto che ha perso sbagliando per due volte la palla della vittoria.